allora ci facciamo conoscere perché siamo sopravvissuti vero piccio perché poi ti leggono adesso siamo ce la facciamo a tenerti in braccio perché ci siamo appena svegliati altrimenti eri già qua che mi mordevi ecco che lei già lei è un po irrequieta vedi eh lei la femmina e lui il maschio vero siccome poi quelli di milano quando vengono qua a milano non ci sono per cui non li possono conoscere ecco che già lui si sta già un po ribellando con i reni siamo guariti per cui siamo sopravvissuti eh almeno ci facciamo vedere quando quando poi vengono in studio non sanno vedono tutte queste luci non dicono oddio cosa ma cosa sta succedendo qui dentro vero è patata e mi dai baci allora qui facciamo questa cosa primo grado do maggiore terzo grado b minore 7 modulazione fa minore 9 quinta si bemolle dominant 13 questo signi di scala di do maggiore modulo mi bemolle mi bemolle per cui mi do maggiore maggiore significhi anche un po du do maggiore do minore terzo relativo al sesto grado E questo accade costantemente per il fatto che noi andiamo a effettuare un 3, non per questioni di cadenze perfette, eccetera, ma perché siamo più vicini per mantenere il voicing il più elegante possibile. 2, vedi che ho usato una nona e non una minor 7, per la terza del canto no, ma una seconda perché mantengo un voicing il più compatto possibile a quello che era il terzo grado di prima, per cui la nota è la stessa, come per la quinta che porta il 2,5 mettiamo una tredicesima per non... Ok? Anche se mantiene questa sospensione, però la tredicesima mantiene la stessa nota che era del 9, per cui senti quinta, nona, perdono, terza, terza, in questo modo io do maggiore, e questo ad esempio è come poter dire vado a utilizzare una scala maggiore e una scala minore facendo delle modulazioni da dire do maggiore a do minore, do maggiore, mi bemolle maggiore, perché in questo caso è chiaramente, non sto utilizzando scale modali o chissà che cosa, sono semplicemente delle modulazioni su una scala maggiore, perché qui non stiamo utilizzando scale minori melodiche o altre cose, partiamo e sentiamo, eh? E devo farlo in qualsiasi settore del mare, per cui anche se sono uguale. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!